Care amiche ed amici, innanzitutto vi voglio augurare un felice e prospero anno nuovo 2021. Io non sono superstizioso, ma non ci scordiamo che l'anno scorso è stato bisestile. Speriamo che alla fine si risolva tutta questa confusione. Vaccino sì, vaccino no, cura sì, cura no, quale vaccino fare? Si stanno moltiplicando i sierotipi di questo coronavirus, di questo Covid-19. Ci sono nuove varianti, più pericolose, si diffondono di più, sono pericolosi in un 70% rispetto a quella originale. La seconda ondata, la terza ondata, riaprire tutto, richiudere tutto, zone rosse, bianche, arancioni. Veramente stiamo vivendo un'Italia allo stile bianco-rosso-verdone. Io ne ho parlato nel mio canale di YouTube. E adesso questo Sprecher Podcast in live sarà salvato nel mio canale di YouTube, Sprecher Radio Podcast of Saint-En-Chan. Quindi vi invito a guardare i miei video nei miei canali di YouTube. Se voi non sapete ancora, perché magari è la prima volta che vi sintonizzate su questo live, oppure sul podcast, che sarà anche salvato in molti siti di podcast, basta che cerchiate San Ten-Chan sul web e vi apparirà tutto quello che ho fatto finora. Però questa live sostanzialmente la faccio per augurare a tutti e tutti voi, care amiche ed amici che mi seguite, ed anche quelli che non mi seguono, di avere un felice e prospero anno nuovo 2021. Spero che tutta questa ietta finisca e di vivere finalmente un'esistenza tranquilla, senza morti. Comunque mi raccomando, non crediate ai complottisti. Questa malattia esiste sul serio, siamo tutti a rischio di vita e per il momento senza cura, senza vaccini, rispettate le distanze di sicurezza, indossate la mascherina e uscite di casa il meno possibile, evitando gli assembramenti e gli affollamenti. Soprattutto nei locali chiusi. Uscite solo per cose indispensabili, come faccio io. Ringraziandovi di cuore, mi raccomando, seguitemi, iscrivetevi a questo canale di Sprecher e ai miei canali di YouTube, seguitemi in Facebook, Instagram, Twitter, ma potrete trovare tutte le mie attività sul web, cercando San Ten-Chan. Arrivederci! Arrivederci e grazie! Ciao! Ciao!